Un buon pomeriggio, un buon inizio settimana da E-Live, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Quest'oggi in primo piano, come ovviamente avrete visto, abbiamo il maltempo, abbiamo la neve che è arrivata copiosa in provincia e sta arrivando anche in città. Andiamo quindi a vedere insieme le prime immagini fatte proprio questa mattina in territorio bresciano. Eccole qua, neve a macchia di leopardo, appunto come dicevamo in provincia di Brescia, tesa fino a 20 centimetri, ma la città è stata finora risparmiata, ha fatto la sua comparsa sicuramente nelle valli e anche sul Garda. Il piano neve del comune di Brescia è comunque scattato nella notte con mezzi, spargi sale in funzione su tutte le strade cittadine, con sale e sabbia ad evitare che la neve potesse creare poi problemi alla viabilità. La neve, come detto, che ha risparmiato per il momento Brescia, ma che sta arrivando proprio in questi minuti. In queste immagini vediamo appunto la città, proprio pochi minuti prima che andassimo in onda con questo telegiornale e anche alcune immagini che ci avete inviato da Sacca in Val Sabbia. Comunque vi chiediamo, continuate ad aggiornarci, a inviarci le vostre immagini nei vostri video, soprattutto ovviamente li manderemo sul nostro sito internet e perché no, anche nei nostri telegiornali al numero WhatsApp 393 16 16 197. Teneteci aggiornati su quella che è anche la situazione appunto nel vostro paese, dove vivete fuori dalla vostra abitazione, ovviamente anche per quanto riguarda la viabilità e le strade. Vediamo anche come potrebbe evolvere nel corso di oggi la situazione meteo, Brescia e provincia con gli amici di Trebi Meteo. Il maltempo che insiste come diciamo al centro nord e queste nevicate sin da questa notte sulle regioni settentrionali, soprattutto in pianura tra la Lombardia, l'Emilia Occidentale e in parte anche il Piemonte dove però nevicherà un po' meno e il Veneto dove però farà leggermente più caldo. Comunque insomma giornata diciamo delicata per rimanere aggiornati e capire anche quanta neve eventualmente arriverà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ora abbandoniamo per un momento il tema neve, ovviamente recupereremo questo tema durante il corso della giornata per anche ovviamente gli aggiornamenti su quelle che saranno situazioni ed eventuali criticità che ovviamente speriamo non avvengano. Cambiamo argomento quindi e passiamo al coronavirus, passiamo all'emergenza Covid-19, ovviamente parleremo ampiamente se nei prossimi minuti di quello che è il vaccino del Vax Day è andato in scena ieri al civile di Brescia, ma prima partiamo facendo un quadro della situazione. Per farlo andiamo sul nostro sito internet e diamo uno sguardo ai dati pubblicati nella serata di ieri da Regione Lombardia e anche su livebrescia.tv. Vediamo dal titolo che il tasso di contagiosità è pari al 9,5%, quindi un po' più basso rispetto alla giornata precedente, ma dato comunque alto rispetto ai numeri della scorsa settimana. Meno di 5.000 i tamponi, complici ovviamente fine settimana e festività, 466 positivi in Lombardia, 111 a Brescia. Diamo nel dettaglio quella che è l'infografica della Regione per capire un po' meglio quelli che sono i dati e leggerli un po' nella loro completezza. Vediamo che il dato positivo è che nonostante appunto i tamponi siano pochi, diminuiscono anche i ricoveri. Meno 5 per quanto riguarda le terapie intensive, attualmente sono 508 in tutta la Regione. Meno 38 per quanto invece riguarda i ricoveri non in terapia intensiva, attualmente sono di poco superiori ai 3.800. Sono 49 i decessi, un numero sicuramente ancora molto alto, però dobbiamo dire molto più basso rispetto a quelli delle scorse settimane. Abbiamo parlato quello che riguarda l'incremento dei nuovi positivi, 9,5%, la totale della percentuale fra i tamponi positivi e i tamponi processati, che come abbiamo detto sono molto pochi. Vediamo che il dato di Brescia resta sempre particolarmente alto, in realtà è l'unico a tre cifre, 111, dopo Milano 124, mentre molto bassi i dati delle altre province. Ad esempio abbiamo visto che negli scorsi giorni Varese aveva avuto un numero davvero molto alto di contagi, quest'oggi ne segnala solo 7. Ovviamente dovremo vedere però i dati nella loro interezza più avanti, quando avremo anche un numero di tamponi che si alzerà dopo queste festività. Come detto parliamo ora di quella che è la situazione del vaccino. Ovviamente lo sappiamo, in tutta Europa, in Italia, in Lombardia e anche a Brescia, ieri sono iniziate le vaccinazioni. Per quanto riguarda la nostra città, sono partite al Civile, che sarà l'hub anche per le vaccinazioni anti-Covid per la nostra città e per la nostra provincia. Ieri noi siamo stati appunto al Civile per questo Vax Day, abbiamo intervistato anche quella che è stata la prima bresciana che ha ricevuto il vaccino Pfizer anti-Covid. Si chiama Giulia ed è un'infermiera. Sono Giulia, Salvalai, lavoro in seconda neurologia degli ispirati civili di Brescia, quindi in questa azienda, e ho avuto l'onore e il privilegio di essere la prima vaccinata per il Covid. Ma devo dire che mi sono approcciata molto serenamente perché trovo che sia una fortuna poterlo fare, una fortuna che in così poco tempo sia stato creato e quindi essendo un'infermiera sul campo. Consiglio a tutti di farlo anche per responsabilità professionale. Sì, nella prima ondata ho lavorato nel reparto di NeuroCovid. Sono stati tre mesi molto pesanti, infatti si discuteva prima con il professor Rizzoni, che è stato il secondo vaccinato, che sembrano passati dieci anni da febbraio in realtà, è ancora l'anno in corso. È stato un anno molto pesante, sì. Anche per tutti quelli che non ce l'hanno fatta, tutti gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici, credo che sia veramente un atto dovuto. Mi auguro che presto possano essere vaccinati anche tutti i miei colleghi, ovviamente tutte le professioni e poi che il vaccino sia disponibile per le categorie più fragili e quindi gli anziani che hanno pagato un conto molto salato in questo anno, ma anche tutte quelle categorie, i disabili piuttosto che i malati cronici che sono più a rischio e in questo anno hanno fatto una vita veramente molto limitata. Me l'ha somministrato un'assistente sanitaria che era molto emozionata, come del resto era emozionata io, ma è stata bravissima, è stata una puntura veramente innocua. Nella giornata di ieri si è sottoposto a questa vaccinazione anche il direttore generale degli spedali civili di Brescia, Massimo Lombardo. Prima dell'inoculazione si è intrattenuto per un momento con i giornalisti e appunto ci ha anche detto qual è stata la risposta dei lavoratori del civile in merito alla richiesta di vaccinarsi. Noi abbiamo fatto una prima manifestazione di interesse che nel giro di una settimana ha raccolto 4.600 adesioni che rappresentano il 65% della popolazione di medici, infermieri, tecnici, tutti quelli che lavorano in ospedale. È un numero straordinario perché normalmente le campagne vaccinali all'interno dell'ospedale non superavano il 20%, quindi questo dava un'idea di quanto sia la sensibilità. Sapete che questo ospedale ha vissuto le due fasi del Covid, la prima in una maniera drammatica, arrivando in 950 pazienti ricoverati lo stesso giorno, credo che sia il numero più alto d'Europa. Questa seconda ondata ha avuto dei numeri più bassi a Brescia, ma circa un terzo nel picco del 23 novembre, un quarto anzi scusatemi, dei ricoverati venivano da altre province, danno una dimostrazione di forza, di solidarietà. Abbiamo contribuito al sistema Lombardo, quindi ricoverando anche pazienti che venivano da Milano, da Varese o da Monza. La forza di questo ospedale, di questa azienda nel suo complesso è quella di avere tutte le discipline, quindi di poter curare tutte le patologie. Tanta ricerca in ogni ambito è stata fatta sugli effetti di questo virus che, sapete, nasce come polmonite, ma oggi sappiamo che colpisce diversi organi. Quindi la forza della ricerca, la forza degli ospedali civili, la storia degli ospedali civili, quasi sei secoli che racchiudono il senso della presenza in questa città per l'intera provincia, è oggi manifestato in questa scala dove sono presenti tutte le professioni sanitarie di tutte le strutture pubbliche e private dalla provincia di Brescia. Fra i primi vaccinati ci sono stati, come avevamo appunto annunciato e come aveva annunciato anche l'assessore regionale Gallera, anche i presidenti degli ordini sanitari vari. Quindi nella giornata di ieri a Brescia è stato vaccinato il presidente dell'ordine dei medici, il presidente dell'ordine degli infermieri e anche il presidente dell'ordine dei tecnici sanitari e dei professionisti sanitari. Si tratta di Luigi Peroni. Sentiamo le sue parole proprio pochi minuti dopo essere stato vaccinato. Presidente, ha fatto venire con orgoglio quello che è il cerotto del buco della prima vaccinazione anti-covid. Sì, sicuramente è stato un avvenimento importante. Spero che tutti i miei iscritti mi possano imitare anche perché devono dare un segnale come sanitari a tutti i cittadini. Questo l'ho fatto in prima persona perché dobbiamo tornare tutti il più presto possibile alle nostre attività. Quando dico attività riguardano ristoranti, alberghi, bar e la nostra vita normale. È stato il motivo principale per cui ho fatto questa vaccinazione. Sono molto più alte di quelle che mi aspettavo. Addirittura sono arrivate le richieste all'ordine dei liberi professionisti, degli igienisti dentali e dei fisioterapisti che hanno gli studi privati. Non vogliono essere lasciati senza vaccinazione perché anche loro hanno rapporto con i cittadini e con i possibili ammalati. Per questa giornata simbolica l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha deciso di essere presente proprio agli spedali civili di Brescia dove ha parlato di questa campagna vaccinale che prenderà avvio nelle prossime settimane. Ovviamente come abbiamo sentito per il momento questa giornata simbolica è servita per iniziare la vaccinazione degli operatori sanitari. Diciamo così, proprio davvero simbolica con dei referenti per ogni magari reparto e ogni struttura ospedaliera cittadina e anche ovviamente le croci per il soccorso. Quando comincerà invece la campagna vaccinale vera e propria per i cittadini lombardi. Sentiamo cosa ha detto l'assessore. Tutto è scadenzato dalle approvazioni da parte dell'EMA e dai tempi che dà la struttura commissariale. Qua c'è un piano europeo, oggi parte in tutta Europa e è un piano italiano che è di acquisizione delle dosi vaccinali e di distribuzione omogenea su tutto il territorio. Oggi noi di questo vaccino Pfizer ne abbiamo per ora 306 mila che arriveranno tra fine anno, quindi tra questi giorni e i primi di gennaio e inizieremo a vaccinare tutti coloro che lavorano negli ospedali e quindi gli operatori sociosanitari, i tecnici, gli infermieri, i medici, ma anche coloro che lavorano nei servizi, quindi da chi fa le pulizie, a chi fa le manutenzioni, a chi lavora nelle mense e poi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, coloro che lavorano nel soccorso, dipendenti o volontari e operatori e ospiti dell'RSA. Quindi mettiamo in sicurezza chi ci deve salvare la vita e quindi chi lavora negli ospedali e le persone più fragili, cioè all'interno dell'RSA. Poi appena verranno approvati gli altri vaccini, quello che sappiamo è che il 6 di gennaio l'EMA ha la seduta per la valutazione del vaccino di Moderna e quindi auspichiamo che venga autorizzato e quindi chi sia la disponibilità di quel vaccino e poi via via anche degli altri che alcuna parte, una parte dei cittadini comuni potrebbero iniziare a essere vaccinati con Moderna, il commissario Saudinario e il governo hanno posto appunto dopo questa prima livello di target, il secondo sono gli ultra sessantenni e parte dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali, poi nella terza ci sono i lavoratori, tutto il resto dei lavoratori, degli operatori dei servizi pubblici essenziali compreso gli insegnanti, anzi prima di questi gli insegnanti e poi via via gli altri. Quindi immaginiamo che appunto tra fine metà gennaio e fine gennaio si possa iniziare anche con i cittadini. Le interviste complete se volete le trovate sul nostro sito internet livebrescia.tv dove abbiamo pubblicato appunto tutte le varie interviste effettuate al civile nella giornata di ieri quando appunto sono cominciate le vaccinazioni. Ora apriamo la nostra pagina sportiva, c'è davvero tanto di cui parlare, purtroppo il bilancio per le squadre bresciane pende dalla parte delle sconfitte, quindi abbastanza negativo, ma andiamo con ordine, partiamo con il calcio, partiamo con il Brescia che è uscito sconfitto dalla gara di ieri contro l'Empoli. Per avere un commento, per capire come questa partita in realtà è andata, sentiamo Fabio Petteno. Il Brescia esce sconfitto dalla quindicesima giornata del campionato di Serie B allo stadio Rigamonti, vince l'Empoli 3 a 1 surclassando la formazione di Dionigi. L'Empoli che ha davvero dimostrato di essere meritevole del secondo posto in classifica per il Brescia, per le rondinelle, un passo indietro importante rispetto a quanto visto nelle prime 4 giornate della gestione di Davide Dionigi. La gara si sbloccava dopo 13 minuti, per la verità i primi minuti davano dimostrazione di un Brescia in difficoltà, segnava As dopo una grande ripartenza, un diagonale davvero imparabile per Jesse Ioren. Stesso As che andava a colpire la traversa verso il quarantesimo minuto di gioco, quando poi la Mantia in tap-in metteva in rete il gol del 2-0. Notte fonda allo stadio Rigamonti e la luce la riaccendeva il solito Ernesto Torregrossa, sfruttando un calcio di rigore concesso dall'arbitro Ross per atterramento di Spalek, trasformazione perfetta del numero 11. Brescia a riposo in svantaggio di una sola rete. 2 a 1 dunque all'intervallo. Nella ripresa ci si aspettava qualcosa di diverso, specialmente nei cambi apparsi tardivi da parte di Dionigi che inseriva sì Donnarumma e Ragusa ma lo faceva solo al settantesimo e così l'Empoli segnava ancora con un rigore questa volta inventato da parte dell'arbitro Ross trasformato da Mancuso che per la verità colpiva il palo e poi in ribattuta metteva in rete a Ioronen battuto. Finisce dunque 3 a 1 questa sfida per il Brescia che chiuderà l'anno mercoledì in occasione della trasferta di Ferrara contro la Spal. Brescia ferma 18 punti a 5 lunghezze dalla zona playoff. Dopo tre vittorie consecutive si ferma anche la striscia vincente della palla canestro Brescia e i ragazzi di Buscaglia infatti crollano, cadono a Sassari, vedono sfuggire di mano una partita che sembrava in pieno controllo fino al primo tempo e finisce 187. Buona prestazione per la palla canestro Brescia che vede però fermarsi la corsa dopo tre vittorie di fila. In Sardegna la squadra di Buscaglia è bella a metà ma comunque non aspettatrice quando i ragazzi di Pozzecco hanno alzato il livello del gioco. Nel primo quarto di gioco infatti l'attacco di Brescia ha letteralmente fatto impazzire la difesa della Dinamo segnando la bellezza di 31 punti. Sassari riesce però grazie ad un grande parziale nel secondo quarto da 26 a 15 a rientrare pienamente in partita andando negli spogliatoi sotto di sole 5 lunghezze. Durante il secondo tempo la Dinamo mette le mani sulla partita grazie soprattutto ad un mirobilan devastante che chiude la sua partita con una doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi conditi anche da 4 assist tirando con un 7 su 9 dal campo. Grande partita anche di Marco Spissu sempre più fulcro di questa Dinamo 23 punti segnati con due rimbalzi 3 recuperi e 4 assist. La squadra di coach Buscaglia ha da rimproverarsi un secondo tempo nel quale non è riuscita a resistere la rimonta di Sassari secondo tempo che di fatti è stato la chiave della vittoria sarda. Inoltre è da sottolineare la prestazione decisamente sotto tono di Crawford specie dopo le ultime uscite che avevano fatto ben sperare. A salvarsi in casa Brescia è un ottimo Christian Burns che segna 15 punti e cattura 7 rimbalzi. Insieme a lui da mettere in risalto la prestazione di David Moss con 15 punti e TJ Klein che ne segna 16. Nella giornata di ieri è sceso in campo a San Filippo anche l'Atlantide pallavolo a Brescia. Fortunatamente in questo caso è arrivata una vittoria contro Cantù. Infatti è finita per 3-1. Una vittoria anche questa agguantata con qualche difficoltà. Sentiamo ora le parole del capitano a margine della partita Simone Tiberti che ha fatto anche un breve bilancio di questo primo girone di andata che in realtà non si è ancora concluso perché manca ancora un recupero prima della fine di questo 2020. Secondo me stasera potevamo essere un po' più lucidi e spietati nel terzo set in cui Cantù ha fatto di sicuro delle buone cose ma noi già dall'inizio abbiamo sprecato dei palloni non impossibili per cui ci prendiamo i tre punti importantissimi perché adesso abbiamo l'ultima partita giornata mercoledì e quindi dovremo cercare di fare punti anche là per arrivare meglio possibile in classifica. Giusto ieri sono andato a vedere i punti che abbiamo fatto l'anno scorso al giorno di andata e ne avevamo fatti 20. Quest'anno siamo a 15 quindi mi auguro di fare una bella partita e una bella vittoria a Siena, ci credo, ci credo molto e avvicinarmi al punteggio dell'anno scorso per cui direi che dipende un po' da quest'ultima partita un bilancio, se vinciamo positivo se perdiamo un po' di meno però è un anno difficile in cui tante squadre comprese noi hanno trovato difficoltà per cui la nostra posizione di classifica non mi dispiace. E allora un grande in bocca al lupo anche all'Atlantide per questo ultimo impegno di questo 2020 che arriverà davvero in extremis proprio sul finire di quest'anno, non semplice per tutto lo sport e non solo. Con questa notizia si conclude qui questa edizione del telegiornale e come sempre vi ricordo che per rimanere informati il modo migliore è quello di collegarsi al nostro sito internet e livebrescia.tv dove trovate anche la diretta del nostro canale 16 e 197 del digitale terrestre in questo piccolo box espandibile a tutta pagina e visibile anche dal vostro telefono cellulare. Telefono cellulare su cui se volete potete ricevere anche le notizie direttamente attraverso questi canali telegram e livebrescia news e livebrescia sport e questo è davvero il modo più facile per ricevere le notizie quando vengono pubblicate dalla nostra redazione. In conclusione vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio, un buon inizio settimana a tutti voi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.